Se il bacanale di Imola è dedicato all'olio ci sono anche degli intermezzi interessanti e particolari anche perché a fine pasto arriva il caffè e allora nascono questi coffee days che mescolano come per magia olio e caffè la magia e l'arte sono dello chef Mauro Uliassi da Senegaglia a Imola tre stelle Michelin e mamma mia poi tralascio gambero rosso e tutto il resto però come si fa questa magia tra l'olio e il caffè che sembrano un pochino lontani al di là dell'aderenza al territorio in realtà noi sono già almeno 7 8 anni che lavoriamo su questa cosa perché il caffè è un ingrediente eccezionale da poter utilizzare anche con l'insalata uno pensa al caffè sempre al dolce no al gelato al caffè la crema al caffè le torte al caffè sono cose di questo genere mentre invece il caffè è un sapore pazzesco a queste note amare e acide sono il sapore più più distinto del caffè sono l'amaro e l'acido che si può incastrare benissimo con tantissime cose noi facciamo una mescola con del tartufo del tartufo nero caffè nocciola e cioccolato oppure utilizziamo l'olio l'olio al caffè perché è il modo migliore per poter avere il massimo del suo aroma perché uno può utilizzare anche così magari semplicemente in polvere no lo metti una volta quando ero ragazzini mi ricordo che mia madre lo metteva sopra la ricotta si mangiava così però rimane sempre un po poi dopo il granello in bocca in qualche modo invece utilizzare l'olio con il caffè è una cosa fantastica c'è una tecnica ben precisa che quella lì di prendere 10 grammi di caffè in grani e 100 grammi di olio si mette in un pacco jet che è una macchina fatta apposta che praticamente una fresa che entra in un barattolo a 7500 giri questo barattolo si prende quindi si mette il caffè e si riempie di olio e poi si mette a gelare a 20 gradi sotto zero si passa in questa macchina quando è gelato e si fa una sorta di gelato al caffè con l'olio poi si filtra in una etamina quindi il caffè rilascia tutto quelli che sono i suoi aromi nel grasso che si appiccica è proprio diciamo un po il sistema che si utilizza per per fare i profumi cioè il grasso è un qualche cosa dove si appiccicano le molecole olfattive di un qualsiasi prodotto a questo punto uno c'ha un olio al caffè e dopo state capire come puoi meglio utilizzare ma è pazzesco perché l'olio al caffè ovunque tu lo metti in qualche modo lui riesce a raccontare il suo modo di essere così fantastico eccezionale lo siamo molto nella selvaggina si sposa perfettamente col tartufo nero col tartufo bianco e ma anche con con il pesce facciamo solo un piccolo fugace arrivo al suo ristorante perché è stato ho letto un sogno che si avvera quindi un sogno che si avvera con tre stelle è un bel firmamento più che un sogno ma non era previsto nel senso che noi quando abbiamo aperto il ristorante eravamo solamente felici di fare questa cosa mio padre mi diceva sempre che adesso non c'è più e tre quattro giorni che se n'è andato a 92 anni è stato uno vostro ordinario lui diceva sempre che quando io avessi avuto desiderio di fare qualche cosa lui mi avrebbe aiutato in parte e quindi nel 1990 acquistiamo questo posto sul porto è un posto che aveva metto una campana mio padre quando lo vise era quasi disperato una campana che sta in piedi con lo stucco e la vernice però era lì era un posto molto bello io penso che soltanto lì noi potevamo intraprendere la nostra carriera di cuochi e abbiamo iniziato con il desiderio di riempire il più possibile il locale perché riempire il locale era il significato del fatto che noi stavamo lavorando bene sono arrivati i primi riconoscimenti sempre molto molto inaspettati sempre in modo meraviglioso la meraviglia è quando te non ti aspetti le cose te lavori fai ti diverti sei entusiasta del tuo lavoro in più le idee ti regalano anche qualcos'altro e questo ti emoziona ti rende felice ti fa sentire che stai vivendo bene il tuo tempo questo questa meraviglia questa questa bellezza di vivere tu poi la condividi con tutto il tuo gruppo di lavoro perché sempre il gruppo di lavoro non si può fare niente e quindi noi siamo arrivati in questo modo alle step by step arrivando ogni volta vedendo un orizzonte superarlo e poi vedere andare a vedere che cosa appunto ci fosse stato nel nell'orizzonte successivo olio extravergine di oliva e caffè due prodotti distintivi nel cuore di Imola e questo perché torrefazione gourmet nasce proprio qui nel 2002 ogni anno vengono tostati e trasformati più di 200.000 chili di caffè verde creati anche centinaia di caffè a marchio gourmet miscele personalizzate ed è anche una bellissima storia di famiglia allora Carlo Alberto Asioli che le generazioni continuano si vede perché è giovanissimo qual è il segreto per un buon caffè e per una buona azienda il nostro motto è arte cultura e passione arte perché per fare un buon caffè ci vuole anche un pizzico d'arte cultura perché per trasformare un prodotto importante come il caffè ci vuole cultura in tutta la filiera cultura nel coltivatore che coltiva e produce il caffè e cultura nel torrefattore che prende la materia prima la miscela la tosta la confezione e cultura in ultimo nel barista se il caffè è preso al bar passione perché per me il caffè è parte della mia vita io credo ad avere una buona dose di caffaina nel sangue e quindi serve passione per fare delle cose belle delle cose buone e senza la passione si perde tutto e poi avete deciso di portare questi coffee days a Imola in occasione del baccanale tra l'altro con uno chef di tutto rispetto sì noi già l'anno scorso abbiamo deciso di realizzare l'imola coffee days con un obiettivo chiaro quello di dare valore al caffè spesso oggi sia il consumatore sia i ristoratori sia i baristi non conoscono neanche il prodotto che stanno servendo che stanno lavorando non hanno idea delle origini o del bouquet aromatico che quel caffè che stanno servendo ha e quello che noi sogniamo e del motivo per cui abbiamo fatto l'imola coffee days è di avere un approccio verso il mondo del caffè sempre più simile rispetto a quello del vino tutti i giorni accettiamo che ci venga servito un caffè senza dirci neanche l'origine mentre almeno sapere da dove viene la storia di quel prodotto ecco quindi diciamo che mentre l'assemblea delle città dell'olio sta cercando di puntare ulteriormente alle carte dell'olio qui con caffè gourmet si tenta di arrivare alla carta dei caffè esatto baccanale dell'olio ma lo possiamo definire anche un baccanale stellato perché davvero incontriamo tantissime stelle michelin in questo firmamento anche sotto questo tendone che un firmamento in effetti lo riproduce e questo perché il garganello d'oro è andato a matteo ferrantino due stelle michelin questo riconoscimento che nel corso del baccanale il comune dimola da a chi porta avanti il tema della cultura gastronomica ma anche perché c'è un bellissimo evento proprio una cena a quattro mani quattro stelle le quattro stelle sono qui al mio fianco e sono lo stesso matteo ferrantino e max mascia che gioca in casa con il suo san domenico allora cominciamo con l'ospite matteo ferrantino originario del gargano quindi lì l'olio è padrone però poi è diventato uno chef da esportazione e infatti si è affacciato ad hamburgo e adesso è la guida di bianca un percorso fatto volontariamente con il desiderio di portare la nostra cucina altrove a proposito di portare la nostra cucina al nord d'europa altrimenti portare la mia stessa persona perché la cucina del sud l'olio di oliva fa parte della mia vita se io mi faccio le allianesi del sangue non esce il sangue esce l'olio oggigiorno la filosofia gastronomica per fortuna sta cambiando moltissimo o meglio dire già è cambiata perché andiamo alla ricerca del prodotto e cerchiamo di cucinare il più semplificato possibile e dare emozione con due elementi un po di sale e via lavoriamo tantissimo perché non lavoriamo a costruire tante piccole cose però lavoriamo tantissimo nella ricerca del prodotto e max il tema dell'olio che tra l'altro interpretate in varie ricette è affascinante è coinvolgente è quotidiano sì beh è centratissimo l'olio fa parte della nostra cucina di tutti i giorni fa parte della dieta mediterranea fa parte di una cucina sana è un ingrediente non lo voglio definire un medicinale ma comunque anche questo questo aspetto quindi ovviamente accentuiamo nelle nostre preparazioni nelle nostre ricette un ingrediente che in realtà usiamo sempre da sempre quindi niente di più non facile ma di più importante di più unico di più utile nelle cucine di tutti noi ma voi come vi siete messi d'accordo per sta cena a quattro mani beh così una telefonata e noto tutto sono di troppo allora sì ovviamente in contatto ma poi è un attimo c'è un tema come l'olio extravergine non c'è bisogno di fare più di tanto quindi ci siamo divisi un po i compiti come abbiamo detto prima abbiamo un po diviso il territorio volevamo coinvolgere un po tutte le nostre regioni o una parte con quattro piatti tutti non si possono coinvolgere è stata una cosa molto semplice come diceva lui e come dico io spesso perché la parola semplice è entrata a far parte della mia vita e immediata insomma quindi un grande piacere ma l'olio anche una valenza sociale e vogliamo proprio concludere con uno degli eventi che libera terra ha organizzato all'interno del baccanale siamo ospiti del caffè emilia ma ancor più degli amici che con libera terra coltivano terre sottratte confiscate alla mafia con noi francesco citarda olio extravergine di oliva ma anche olive questo olio e queste olive sono il frutto dell'impegno di cooperative sociali agricole che hanno ridato valore a interi territori attraverso l'utilizzo sociale dei beni confiscati nei prodotti vogliono essere prodotti di diritto rispettosi dell'ambiente delle persone che lavorano queste terre perfetto allora vedete quanto ci sta in un filo d'olio e il saluto finale arriva dal baccanale che vi ricordo vi aspetta a Imola fino al 10 novembre ancora con tanti eventi legati al cibo al mondo dell'olio ma anche al mondo del vino e naturalmente con i menù a tema dei 33 ristoranti della città e dei dintorni inoltre potete seguire il tutto sulle pagine nostre facebook instagram e sul web troverete tante informazioni con i frutti della terra vi da appuntamento come sempre tra una settimana tanti servizi tanti reportage tanta agricoltura tanta enogastronomia grazie a tutti grazie a tutti